Ciao a tutti, breaking news di serata, quindi eccezionalmente un terzo contenuto perché la Juve ha da poco chiuso praticamente l'arrivo di un centrale brasiliano classe 2004 dal Palmeiras, Pedro Felipe. Ovviamente avendo un ragazzo 19 anni non è che lo si possa conoscere dettagliatamente a meno che non si seguano le categorie, in generale il mondo verde-oro, ma resta il fatto che altro giro, altro colpo in prospettiva, la Juve è in procinto di definire in queste ore gli ultimi dettagli per portare Pedro Felipe all'inizio della settimana a Torino per sottoporsi alle visite mediche. Questo ragazzo partirà con la next gen, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni per un centrale dotato di grande fisicità, alto 1,90, pare anche con piedi discreti, poi ovviamente avremo modo di valutarlo sotto lo sguardo attento di Massimo Brambilla, ma è un'operazione come ho scritto sui miei social e come ho scritto su gol.com praticamente chiusa. E a me queste trattative intrigano tantissimo, abbiamo proprio parlato questa mattina di un colpo in arrivo dalle giovanili del Boca Juniors, ora la chiusura per questo ragazzo, Pedro Felipe. Sono situazioni che possono portare poi ad avere delle piacevoli sorprese, un dato interessante è constatare come la Juve si è intervenendo tanto in prospettiva sulla difesa, perché ora Pedro Felipe è un giocatore che dovrà fare un percorso e che come detto parte da next gen, però l'altro innesto di questo mercato di gennaio è Thiago Giorgio Dalil, altro giro, altro difensore. In estate la Juve, che non ha fatto praticamente niente, eccezione fatta per la prima squadra con l'innesto di Timothy Weah, ha preso Facundo, ora in prestito alla Sampa, anche lui difensore. Quindi ho una netta sensazione che la Juve voglia costruire il pacchetto arretrato che verrà, dobbiamo tener conto che poi rientrerà anche Dinhausen sul quale si fa grande affidamento. E' una Juve proprio su questo tema certosina, perché poi onestamente noi di Pedro Felipe possiamo sapere praticamente niente se non fidarci dei vari scout che sono molto preparati, specialmente su X si trovano dei profili interessanti e quindi per persone che amano fare appunto fase di scouting magari Pedro Felipe è un libro aperto. Per noi comuni mortali e che viviamo da altre parti del mondo un po' meno, ma ciò che conta è che poi gli osservatori della Juventus si muovano e in generale che la stessa rete scouting della Juve abbia più contatti per poi arrivare magari prima degli altri su determinati profili, che ora possono dire tranquillamente niente e non dicono niente, ma che magari in prospettiva si possono rivelare delle piacevoli sorprese, alcuni dei crack. Vedi cosa è accaduto recentemente con un certo Kenan Hildiz. Quindi se per quanto riguarda la prima squadra, al momento stiamo in una fase di stand-by con l'unico arrivo in questa sessione del nome Thiago Jalò, per quanto riguarda la prospettiva è la Juve che si muove. Aziz c'è fatto, che verrà tesserato per la prossima stagione, Pedro Felipe praticamente fatto per la stessa Next Gen. Quindi mi sembra che si stia facendo qualcosa di molto molto interessante. Devo essere sincero, io tra i nomi che circolano maggiormente sono molto intrigato da Francisco Barido, altro giocatore che è in procinto di trasferirsi alla Juventus. Vi ho già raccontato la storia nel video questa mattina e quindi per chi volesse i tecnicismi se li può pescare appunto nel mio primo contributo odierno sul tesseramento, su cosa significhi il ricongiungimento familiare, sugli origini croate della mamma che quindi portano il giovane Francisco a poter ottenere a brevissimo il passaporto comunitario e quindi può arrivare subito a aggregarsi, con i tempi giusti, all'Under 16. Però Aziz, Barido, Pedro Felipe è una Juve che si muove, si muove, si muove e poi potrà anche sbagliare perché magari nessuno di questi ragazzi esploderà. Speriamo di no perché la Juve comunque, soprattutto su Aziz e Barido, punta tanto, non che su Pedro Felipe non lo faccia ma è un'operazione in prestito con diritto e quindi se il ragazzo fa bene verso i due milioni nelle casse del club brasiliano, se non dovesse far bene, ritorna alla base ed è stata così una bella esperienza. Però, visione chiara, visione chiara, ma non solo da parte di Cristiano Giunto e Giovanimanna, noi dobbiamo anche citare altre figure che operano molto bene, i responsabili del settore giovanile, Massimiano Scaglia per esempio, tutti i dirigenti preposti all'attività di base. È una Juve che a livello di settore giovanile non l'ho mai vista, cioè così sul pezzo, è veramente tanta, tanta roba. Tanti ragazzi, anche prodotti proprio dalla Juventus che secondo me faranno parlare di sé e magari a chiusura del mercato, vi dico i tre o quattro talenti che più mi stanno intrigando, magari dall'Under 17 in giù, ecco, perché c'è tanto talento, ma credetemi. Avessi più tempo mi piacerebbe guardare più partite, a di nuovo delle varie Under e Juventine, perché è ovvio che mettiamo sempre nel mirino l'Under 19, perché è la fu primavera, allenata da Paolo Montero, con giocatori un po' più formati che poi mettono nel mirino il passaggio intermedio, la next gen, ma sotto, quando io vi parlo di Mazzur per esempio, centrocampista polacco dell'Under 17 arrivato in estate, è un altro prospetto per me notevolissimo, centrocampista, non box to box, un centrocampista che può giocare a due, che può giocare davanti alla difesa, però se ora magari parlo di Mazzur, magari in pochi sanno chi sia, cosa faccia e quale sia la sua prospettiva, per tapparentesi, è uno che, giovanissimo, si è già allenato più volte con la prima squadra. E quindi, niente, niente, questa era una sorta di mini breaking news di giornata, perché quando ci sono conferme e notizie, per me è che si parli di prima squadra, è che si parli di settore giovanile, è la stessa cosa, e bisogna fare informazione, verificare e dare anche il giusto credito all'operato delle persone, perché siamo sempre su interrogativi, Copmeiners, Samarzic, è normale che questi siano i nomi che portano il pubblico juventino a interessarsi, e a livello di creators anche a creare views e like, ma poi se la Juventus prende Pedro Felipe, parliamo della Juventus che prende Pedro Felipe. Ricapitolando, operazione chiusa per questo ragazzo che arriva da Palmeiras in prestito con diritto di riscatto, fissato a 2 milioni, classe 2004, centrale difensivo, se non erro, piede preferito, il destro, 1,90, insomma, un giocatore che poi ha fatto tantissimi tornei legati ovviamente al mondo verde-oro, probabilmente uno di questi tornei è stato addocchiato dalla Juve, che ha deciso di cogliere questa opportunità, concedendo ai ragazzi di arrivare subito in Italia, visite mediche all'inizio della prossima settimana, per un innesto per la next gen, ma chissà, speriamo che possa rivelarsi una piacevolissima sorpresa Pedro Felipe.